Ho firmato il decreto per disporre lo stato di mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della regione siciliana per la recente caduta della cenere vulcanica sui versanti dell'Etna. Lo ha annunciato il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, rispondendo così alla richiesta avanzata dal governatore siciliano Renato Schifani alla luce dei disagi causati dalle recenti attività dell'Etna. Veniamo incontro, ha aggiunto Musumeci, come c'eravamo impegnati a fare, alle esigenze dei comuni colpiti dall'evento parossistico, che potranno pertanto far fronte alle spese necessarie per rimuovere la cenere. Con apposite ordinanze del Capo Dipartimento Nazionale, Fabio Ciciliano, si provvederà a erogare alla regione le spese sostenute dai comuni per ristabilire le condizioni di normalità. Come prevedevamo, ha affermato il Ministro Musumeci, anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato dal punto di vista tecnico che la ricaduta di materiale piroclastico nella regione Etnea costituisce da tempo un fenomeno ordinario, il che ha indotto il Dipartimento a escludere, per mancanza dei presupposti, la dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale.